Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale E' stato trovato morto l'anziano di 81 anni affetto ad Alzheimer che si era allontanato da casa ieri sera dopo cena e il suo corpo era finito tra gli scogli Si terranno giovedì alle 15 a Centinerola il funerale di Patrick Mencoboni, il giovane di 24 anni morto domenica in un incidente stradale con la sua auto Grazie all'occhio vigile e attento di alcuni cittadini a Urbino i carabinieri sono riusciti ad arrestare due ladri di auto Sono belle, eleganti e anche costose, per questo fanno gol ai ladri Sono le biciclette di marca che nell'ultimo periodo sono tornate nel mirino di una banda specializzata di ladri A Fratterosa un giovane scrive al Papa per chiedergli di ripristinare alla fine della Messa la preghiera a San Michele Arcangelo contro il maligno Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 Come avete sentito dal nostro sommario l'uomo anziano scomparso da casa da ieri sera è stato trovato purtroppo senza vita Oggi pomeriggio era incastrato tra gli scogli al lido di Fano Il servizio di Lino Balestra È stato trovato tra gli scogli del molo di Fano Quelli che guardano verso la spiaggia del Lido Quasi seduto in posizione supina e privo di vita Si sono concluse alle 12.40 di questa mattina le ricerche di Franco Ceccarelli di 81 anni Uscito di casa ieri sera tra le 21 e le 22 volontariamente Eludendo la presenza dei suoi familiari e lasciando le sue cose in garage Sono stati due operatori della protezione civile di Fano appartenenti al CB Club Mattei Che avevano come zona da perlustrare il settore del molo Che nonostante la nebbia, che a tratti rendeva difficoltosa la ricerca ad occhio nudo Ad avvistarlo e a comunicarne via radio il ritrovamento Mentre l'unità anfibia dei vigili del fuoco proveniente da Pesaro Stava perlustrando a bordo del battello pneumatico il tratto di Canale Albano Ceccarelli che soffriva di Alzheimer lo hanno cercato nel Canale Albano Nel porto Canale, nelle spiagge, nel tratto di mare compreso tra la foce del Metauro e Fosso Seiore Nonché in ospedali, strade cittadine ed extraurbane e locali di ritrovo Era uscito di casa con un abbigliamento leggero, senza sopravvito, non certo consono Alle rigide temperature notturne, anche sotto lo zero termico, di questo periodo dell'anno Ora i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica Dovranno stabilire l'esatta ora del decesso e la sua causa I familiari lo stavano cercando da ieri sera, assieme ai militari dell'arma di Fano Dopo che ne avevano denunciato la scomparsa E questa mattina, dopo una nottata senza sue tracce Dopo un vertice in prefettura è scattata la ricerca interforze Che ha portato poi al ritrovamento del suo cadale Sul molo, oltre alla guardia costiera, questo mattina sono arrivati gli uomini del commissariato I carabinieri, il personale sanitario del 118 e le squadre dei vigili del fuoco Che, una volta individuato il corpo, hanno atteso che i medici ne decretassero il decesso Oltre che i vigili del fuoco e protezione civile impegnati nelle ricerche Ceccarelli, molto noto a Fano, spesso lo si poteva trovare lungo il corso In corrispondenza della Fontana, dove alle volte eseguiva canzoni e intonava brani Per intrattenere i passanti anche con racconti e storielle Ed era anche un amante del carnevale Ceccarelli lascia la moglie e due figlie E c'è un video che sta girando su internet Che ha pubblicato uno dei suoi tanti amici E che racconta, ricorda la passione, come è stato accennato appunto in questo servizio Per il canto E allora ve ne facciamo vedere qualche istante di questo video Buongiorno a tutti Ma basta dai In piedi per Franco In piedi dietro esulta Grande, grande, grande Gli sassi ballano, grande saluta a tutti Ciao a tutti A Urbino, grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini I carabinieri sono riusciti ad individuare e ad arrestare due persone dedicate ai furti di automobili Erano in due Si aggiravano per le vie del centro In pieno giorno Ad Urbino A volto scoperto Due topi d'auto Detti così in gergo Giovanissimi Senza troppe remore Ieri pomeriggio hanno iniziato ad operare sulle auto che trovavano Una via l'altra Scassinandone alcune E provando ad aprirne altre Appoggiandosi alla portiera di schiena Ma senza soluzione di continuità Spavaldamente Non curanti Del fatto che qualcuno invece potesse notarli E chiamare le forze dell'ordine E così è stato Carabinieri sul posto Presi con le mani nel sacco Ed arrestati Sono due uomini 20 e 19 anni Uno residente nell'Urbinate L'altro senza fissa dimora Italiani E tutte e due con precedenti penali Sempre inerenti ai furti d'auto Sono stati arrestati Ieri pomeriggio In tarda serata Dai carabinieri della compagnia di Urbino Per tentato furto E furto aggravato In concorso su autovetture Al 112 Era arrivata la segnalazione Da parte dei cittadini Residenti nelle vie Interessate Dal loro ride Di due persone Che si aggiravano Tra le auto Con modi sospetti Subito è scattata L'operazione Dei militari Coordinati dal comandante Renato Pugliesi Che ha mandato sul posto Alcune pattuglie Pattuglie però Precedute da due carabinieri Liberi dal servizio Che ha preso dell'operazione E trovandosi nei paraggi Non hanno esitato A raggiungere il posto Per intercettare subito I ladri E coglierli sul fatto E così è stato In corso Garibaldi I due sono stati presi Proprio Mentre stavano uscendo Da un'auto Che avevano appena forzato Parcheggiata Lungo la strada Inseguiti E poi raggiunti Nei pressi Del teatro Sanzio Sotto gli occhi Dei passanti Ma per loro Sono scattate Subito le manette Molte le denunce Di diversi cittadini Per questo tipo di furto Al momento Cinque Sono le auto Accertate Violate dai due malviventi Ma le indagini Del carabinieri Sono ancora in corso Anche utilizzando Le immagini Di alcune telecamere Di videosorveglianza Nelle zone interessate Per individuare Altri mezzi Visitati Diciamo così Dai due topi d'auto Addosso ai due ventenni Sono stati trovati Arnesi da scasso Veroscibilmente Utilizzati Per introdursi All'interno Delle autovetture Gli arrestati Giudicati Nella mattinata odierna Con rito direttissimo Presso il tribunale Di Urbino E' stato inflitto Il divieto Di dimora Nel comune di Urbino Fondamentale Ribadiscono i vertici Dell'arma Il rapporto di fiducia Tra cittadino Ed istituzioni Cosa che ha permesso In questo caso Di sventare Fastidiose azioni criminose E assicurare Alla legge I malviventi Si terranno giovedì pomeriggio Alle 15 I funerali Di Patrick Mencoboni Il giovane Di 24 anni Morto la notte Tra sabato e domenica In un incidente stradale Con la sua auto Come dicevo Il funerale E' programmato Alle 15 Nella chiesa Del Sacro Cuore di Gesù Nel quartiere Di Centinarola Di Fano Da quanto sia preso Tra l'altro Non verrà eseguita L'autopsia Come invece Si era ipotizzato In un primo momento Secondo un'indagine Di qualche anno fa In Italia Vengono rubate All'anno Circa 230.000 Biciclette Ora Non sappiamo Se questo dato Sia aumentato O diminuito Quello che è certo E' che i ladri Adesso Scelgono Biciclette costose E di marca Così come avviene Purtroppo Anche nella nostra città Membranze Dove è stata portata via Una mountain bike Assicurata Con ben due lucchetti Ad una ringhiera Del valore Di 500 euro O come ultimamente Accaduto Ad un fanese Preso di mira A cui sono state rubate Alcune bici Si marca via Veneto Del valore di oltre 300 euro L'una Di una nota Azienda locale O come anche Quelle di un altro Marchio storico Cittadino Anche queste Prese di mira E lasciate in pieno giorno In centro Legate a un palo Ma portate via Con grande disinvoltura Ultimamente Nemmeno lasciarle davanti Ai vigili urbani E' servito Il ladro Ha inforcato la bici E se l'è data Gambe Anzi a pedali Ma fortunatamente Poi i vigili urbani Lo hanno rintracciato E acciuffato Poco distante Grazie ad alcune telecamere Sembra però Che nulla Li scoraggi Ci dicono i malcapitati Raffaella Gaudenzi Su reporter di strada Dice A me sono entrati Addirittura nel giardino Di casa E se la sono portata via Da sotto la mia finestra Anche le forze dell'ordine Confermano Che è un fenomeno Sempre vivo Ed attuale Ma in calo Forse in aumento In alcuni periodi Dell'anno Ma come potersi difendere I rivenditori di bici Non hanno dubbi Acquistare Un lucchetto adeguato Spendere diverse Centinaia di euro Per la bici E poi lesinare Sul lucchetto È da stupidi Quelli da pochi euro Si tagliano Con estrema facilità Basta una buona tronchese E via Uno discreto E robusto Invece Viaggia Almeno dei 15 euro In su Il massimo Poi è il cavo d'acciaio Che abbraccia Tutte e due le ruote E si fissa Ad un sostegno Come un palo O una ringhiera Rendendo il lavoro Dei ladri Più rognoso E alla vista Del quale I ladri Passano oltre Le gare Come spesso accade Solo una ruota Davanti al portabici Spesso regala Brutte sorprese Al nostro ritorno La sola ruota Davanti Sarà l'unica cosa Che ci rimane Della nostra Bella e costosa bici A frate rosa Un giovane Ha scritto Al papa Per chiedergli Di ripristinare Al termine della messa La preghiera A san michele Arcangelo Così come si faceva Fino al 1964 Quando poi Appunto È stata soppressa Ma papa francesco Ancora Non gli ha risposto Ha lanciato anche Una petizione online La quale hanno già Aderito 2300 persone Ha interessato Anche i media nazionali E diverse testate Giornalistiche Come Avvenire Famiglia Cristiana E Radio Maria E prima ancora Ha scritto A papa francesco Una lettera Per chiedere Di ripristinare Nel rituale Della messa La preghiera Al principe Delle milizie celesti San michele Arcangelo E davide brunetti 28 anni Residente a Torre San Marco Piccolo e caratteristico Borgo Arroccato sulle colline Nel comune di Fratterosa L'antica Castrum Fractarum Oggi Poche centinaia Di anime Che vivono Tra quiete E natura San michele Arcangelo E anche il protettore Della parrocchia Ed allora Davide Appassionato Di religione Cattolica Ed osservatore Attento Dei mutamenti Della chiesa E della società E per alcuni Violenti fatti Attuali Alcuni dei quali Anche Profeticamente Anticipati Dai testi E dalle parole Di religiosi Del passato Ha interpretato Il volere Di alcuni suoi concittadini Ed è passato Ai fatti Aiutato anche Da alcune persone Vicine al mondo ecclesiale E ha scritto Fiducioso Al sommo pontefice Ma al momento Non ha ricevuto Alcuna risposta Ma attende Fiducioso Che la sua preghiera Venga accolta All'inizio degli anni Sessanta E' stata tolta Dal rituale Non riesco a capire Proprio il perché Alla fine Della messa Di ringraziamento Si riprende Da uno stato Simile alla trans E il papa Dice di aver assistito A un colloquio Tra il nostro signore E Satana Satana Dice al padre eterno Mi fai tentare A distruggere La tua chiesa La tenterai Ma non la distruggerai E il papa Quando si è ripreso Ne è rimasto Talmente colpito Che ha deciso Di scrivere Questa preghiera qua Quattro anni fa Ho scritto Dopo sai Scrivono talmente In tanti Che a rispondere A tutti E' molto molto difficile Comunque invito Tutti a recitarla Perché serve Serve molto E il prossimo Fine settimana Invece Sarà dedicato La festa di Sant'Antonio Abate In giro per le piazze Fioccano le iniziative Che intendono Mantenere viva Questa antica Tradizione Contadina Sant'Antonio Naturalmente E' uno che vive Il Vangelo E lo trasmette E' un uomo Di preghiera Vive un Vangelo Sineglossa Proprio radicalmente La sua vocazione Nasce proprio Dal sentire Una frase Del Vangelo Se vuoi essere Perfetto Vai Vendi quello che hai Da lei poveri Poi vieni E seguimi Con le celebrazioni Di Sant'Antonio Abate Carignano Vuole far rivivere Il borgo storico E dargli un nuovo slancio Arrivata alla sua 68esima edizione L'evento di quest'anno Si spalma su tre giornate Il 17, 18 e 19 gennaio L'intento del nuovo comitato Dove padre Marzio Calletti Parlerà di questa figura Del santo E con Giovanni Pellosi Che invece presenterà E cercherà Di farci capire Come questo santo Si è entrato Nella tradizione Delle campagne Poi la domenica Si continuerà Con l'iter normale Della mattinata Con la messa Presieduta Dal vescovo Trasarti Con la processione Accompagnata Dalla banda cittadina Che oramai Questo è un rituale A cui seguirà La benedizione Degli animali E anche La colazione contadina Che verrà offerta A tutti Chiaramente Offerta dal comitato Per Carignano Che quest'anno È la vera Novità Che noi troviamo In questa festa Perché questo comitato Sicuramente È quello Che ha avuto Modo E si è messo A disposizione Per rinnovare Questa festa E per dargli Appunto Una nuova veste Soddisfatta L'amministrazione Comunale di Fano Che si dice Vicina Ad iniziative Di questo genere Soprattutto Per la valorizzazione Dell'antico borgo In questo caso Il comitato di Carignano Insieme alla parrocchia Insieme a tutta una serie Di persone Che tengono a questo borgo Ci portano proprio Alla riscoperta Di un borgo importante Quello di Carignano E quindi noi Non possiamo Che sostenerli Nella valorizzazione Di questo patrimonio Importante Che è la nostra città Che darà assolutamente Grande valore A tutta la città E per questa edizione È tutto Grazie per averci seguito Buona serata a tutti Arrivederci Grazie a tutti